Ben ritrovati allo spazio dedicato agli appuntamenti. Partiamo questa sera con l'incontro di lettura amene che avrà luogo al Circolino di Città Alta martedì 18 giugno. Lo scrittore spagnolo Pablo Dors presenterà il suo affascinante libro Avventure dello stampatore di Zollinger. Alcuni brani saranno letti dall'artista Diego Bonifaccio, appuntamento alle 18. Passiamo ora a un altro evento che si terrà invece mercoledì 19 giugno. Gli allievi della scuola di teatro Erbamil presenteranno uno spettacolo teatrale intitolato Molto rumore per nulla, liberamente tratto dall'opera di William Shakespeare. Appuntamento all'auditorium di Ponte Aranica alle 21. L'ingresso è libero. Continua l'appuntamento con la musica a Bergamo. Il Summer Sun Festival del Lazaretto ospiterà per la serata di martedì 18 giugno Niccolò Fabi. L'evento si concluderà mercoledì con la band folk rock italiana in Marta sui tubi. Ancora musica a Bergamo per gli appassionati di pianoforte. Mercoledì in Sala Piatti alle 20.45 si svolgerà il concerto a cura del professor Marco Giovanetti e della professoressa Luisa Fanti. L'ingresso è libero. Concludiamo ricordando la serata di shopping sotto le stelle per le vie di Treviglio. In programma anche un omaggio a Vivaldi con il maestro Paolo Artina. Appuntamento nel centro storico alle ore 20 e 30. Grazie. 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 Grazie.